Ebbene amici fratelli della congrega, vi turbano questi video, vi amorbano, scuotono le vostre certezze o provocano le vostre risate sconfinate, interminabili, con questa voce così, che tanto vi preoccupa inizierà il festival di Venezia, ci andrò per perdere tempo, per sorseggiare metaforicamente qualche film da deglutire e forse mal digerire. Io rimango indigeribile, non mi si sopporta, sono indigesto, gli stomaci debole, soprattutto la gente voleva dare a me del debole non conoscendo nulla della mia vita, voglio aprire una rubrica intitolata Segue, sì, dedicata alle donne sexy, no, agli uomini che provocano godimento perché sono morti, non ci sono più, quindi tutte le persone malvagie che sono state trafitte da malimpietosi avranno tutta la mia sborra, non la mia stima. Sì, masturbarmi ci sopra. Sì, sì, ma non voglio piangermi addosso, cadere nel patetico, nel pietistico o nel pianisteo. Un'altra regola su cui si basa questa società di ipocriti è non confessare mai la verità, altrimenti si viene presi per debole o per persone che si lagnano. Invece voglio lagnarmi, voglio parlare in modo afasico, sbagliando, impappinandomi, vivendo la mia giovinezza che fu tranciata, interrotta e così, cazzeggiando nel recupero del tempo perso da elaborare e da non perdere più. No, no, continuare così anche perché una vita normale non la vedo proprio, sinceramente. Ecco, dice, il Festival di Venezia. Mi sono un po' interrotto nel eloquio, mentre questo andrà a schiantarsi per colpa di questa velocità da dissennato incosciente totale, potrebbe mettere sotto qualcuno. Ecco, queste espressioni, ti ho asfaltato, ma andate a sfogliare qualche libro, che stavo dicendo, giusto, a sfogliare, no, data ad asfaltare qualche zoccola, dai, in questa società militaresca di cameratismi, di maschi senza palle, perché dal vivo non sanno affrontarti, sono malati di codardia, quest'Italia di porci dove se sei così sensibile, ti preoccupi del prossimo, sei una femminuccia, se invece te ne fotti sei un troione, ma non perché ti fotti delle donnone, perché semmai campi sulle spalle della società, ti becchi la patente di parassita, quando gli altri, svolgendo lavoretti da quattro soldi, si celano e coprono di questa falsa dignità sociale e poi si sentono uomini. Ecco, dicevo, finché snobbai, anche se poi rivalutai, c'è anche una mia recensione online, non l'andrò a raccattare, no, a rinvenire, a riesumare, non so se per dare un avvio cinema, finché trascurai, stava diventando importante, in The Valley of Vela, questo investigatore interpretato da Tommy Lee Jones, che indaga sulla scomparsa o morte del figlio, pestato, calpestato, denigrato, bullizzato, disossato, fatto a pezzi, proprio spellato, picchiato, forse stuprato, assassinato. Subito dopo Venezia compirò 44 primavere, quindi, perché io dovrei farmi difendere, ecco, da mio padre o da qualche persona saggia più grande di me, io sono più grande di lui, soprattutto per via di questa voce stentoria, quando mi incazzo non mi tengono fermo, devono chiamare la neuro, l'ambulanza, prescrivermi un TSO, ma non sortisce l'effetto sperato, perché se certa gente sperava che fosse attenuato, no, mi tira il cazzo, sì, sì, a proposito di masturbazione, circa 34-35 al giorno, a tamburo battente, sono svergognato, la vergogna di questa società di figli di puttana, di puttanieri che rinnegano la verità e si coprono di falsa identità. In The Valley of Villa lo inserirò nel commissario Falotre, in questi libri scombiccherati, bislacchi, senza capo né coda, prese per i fondelli o per il culo a me stesso, mentore, mentitore, io non voglio fare l'insegnante, gli insegnanti che ammaestrano, pedagogizzano, moralizzano e poi demoralizzano e motivano, quando, dai, visto, bravo, basta, con questi esseri pedanti, ammorbanti, loro sì, in The Valley of Villa, questo uomo duro, Tommy Lee Jones, che non gliene frega un cazzo di niente e di nessuno, che semmai viene aggredito, questo uomo vecchio, inacidito, rancoroso, forse gli direbbero, quel film di Paul Huggies, poi accusato di stupro, ma è stato condannato, ma lui, l'autore registrico, anche della sceneggiatura di questo film, di un altro, sicuramente di quello script, ecco, milion dollar b, ma come? Ma come? Ma come? Ma come? Le spiegazioni, l'irrazionale, le contraddizioni che voi non calcolate, e poi volete effettuare contravvenzioni, multare, mutilare, ammutolire, zittire, tacere il prossimo o di false, ecco, patenti da debitagli, ecco, calunniarlo, tacciarlo, non sapete parlare, non sapete scrivere, non vi sapete muovere, non sapete neanche picchiare, se mi fate incazzare vi spacco la faccia, come direbbe Balanzoni, come diceva, ti deraglio la mascella, stai attento che non te la deraglio io, la mascella, povero ignorantone di merda, come è stato tuo figlio al cimitero? Cosa fa? Lì coltiva le piantine nell'aldilà, eh? Io non la pianto, mi ricordo che tutta questa tragica storia, iniziò, quando andai a vedere la recita di uno, già lì la situazione si aggravò, mi ricordo che avevo ordinato da Amazon due DVD per masturbarmi, rispettivamente su Polly Walker di otto donne e mezzo, versione inglese, su Forever Mine, cioè su Gretchen Mall, quando viene trombata, eh sì, ho sempre amato quelle scene violente come quella di Michael Madsen in Ghetto, quando praticamente fotte quella zoccolona di merda, dai, dai, ficca, Ronenberghiano, mi piace la History of Violence, quando qualcuno, ti conosco, so come sei fatto, infatti, infatti, si vede che mi conosce molto bene, però non fa una bella fine quella ed Harris lì, eh? Ecco, sono fatto così, mi disgustate, vomitate, mi repellete, mi volete spellare, mi volete internare, mi volete inculare, ne dubito che questo avverrà, io faccio quello che voglio, voi non potete, venite da famiglie che vi hanno educato a principi moralistici, non morali, e ragionate in maniera umorale oggi, trattate bene il prossimo, domandolo trattate male, e sperate che non vi siano ritorsioni, che una persona non si vendichi, non vi tormenti, non vi perseguiti, non vi terrorizzi, non sia il vostro incubo peggiore, non si materializzi nei vostri incubi, che non ritorni quel fantasma che tanto vi turbò, vi preoccupò, ecco, mi ricordo, c'era un tipo, andammo a vedere la recita di un povero Cristo che è un liceale, sì, ma vedi, però fanno qualcosa, cosa, la recita già da vecchi rimbambiti, per far felici genitori, e i miei genitori sono felici di quello che sono, sì, perché sono me stesso, sono Franco, James Franco di In the Valley of Villa, così parlerebbe bolognese del cazzo, io non ho origini bolognese, origini meridionali, sono un tartaro come i miei denti, no, semplicemente macchiati, gialli, neri, amo i gialli, amminoire, gli hardboiled, è brutto, è brutto, i meridionali sono vendicativi, purtroppo è così, quindi se qualche testa di cazzo nel 2003, uno che è tutto appurato, mi disse, mi scrisse, ti taglio il cazzo e ti fico nel culo, beh, gli sta bene che qualcuno è morto, che hanno sofferto tutti quanti come degli animali, che soffriranno perché non sapranno quello che succederà, quando potrebbe succedere, non possono fare un cazzo, sinceramente non sono imputabile e tacciabile di nulla, giusto? Avete visto? Che cosa ha sortito il vostro scherzetto di merda?